apprendere facile si può oggi parliamo di inventare i problemi fare i problemi con facilità presentiamo delle schede per facilitare l'esecuzione e anche l'invenzione dei problemi di aritmetica schede adatte sia per i bambini di fine prima per tutta la seconda anche per i bambini di terza primaria e anche per tutti quei bambini che possono avere qualche difficoltà nella matematica e nei problemi in modo particolare vediamo alcune regole base la prima regola base per imparare è quella di insegnare ai bambini a creare ad inventare i problemi e non solo a svolgerli poi seconda regola è partire sempre da cose reali cose concrete che possono essere oggetti animali persone sia di casa che di scuola poi anche dei disegni immagini ma sempre immagini di realtà una terza regola è quella di insegnare ai bambini ad osservare e a saper raccontare verbalmente quello che vede usando sempre frasi complete e ben espresse anche con l'aiuto dell'adulto naturalmente la quarta regola è saper disegnare il problema usando all'inizio anche le immagini che sa fare ma anche poi dei simboli o delle o delle piccole semplificazioni qui vediamo adesso esattamente quali sono le diverse fasi che bisogna seguire per realizzare questa procedura la scheda le schede che voi qui vedete sono stampabili sempre dal sito fantasia web andando nell'home page e nell'immagine di riferimento per youtube una prima tecnica quella se partiamo dagli oggetti reali quindi dagli oggetti che uno ha davanti che si toccano e quella chiaramente di scegliere oggetti che siano chiaramente conosciuti dai bambini perché mai usare oggetti che sono sconosciuti quindi qui facciamo l'esempio partendo da delle mele quindi il bambino deve osservare bene queste mele e descriverli in un modo preciso quindi che cosa osservi che cosa vedi ecco davanti a te che cosa hai e sulla lavagna che cosa c'è e quindi vedo una mela di un colore un po chiaro rosso chiaro due mele verdi e tre mele di colore rosso una volta fatta questa descrizione il bambino dovrà scegliere quale può essere un disegno semplificato tra quelli presentati in questo schema più adatte a rappresentare questi oggetti e l'insegnante chiaramente o il genitore aiuta sicuramente quello più adatto per forma è un po un cerchietto e quindi si sceglie il cerchio e si usano i colori sempre corrispondenti all'inizio perché questo facilita chiaramente un po la percezione e quindi si disegna un cerchietto rossa due verdi e tre rossi poi si chiede se possiamo scrivere sotto sotto le mele i numeri corrispondenti ai diversi raggruppamenti mi raccomando usate sempre parole precise della matematica perché non bisogna cioè le parole non sono facili e difficili basta usarle nel modo giusto e la tecnica è doppia vedete se il bambino ha difficoltà proprio si fa una corrispondenza del del di ogni raggruppamento con il numero se invece il bambino non ha problemi si può scrivere direttamente sotto sotto i disegni il corrispondente numero si passa la fase della domanda si chiede guardando il disegno i numeri che hai scritto che domande ci possiamo fare su questi numeri su questi disegni è chiaro che non è facile all'inizio va sollecitato aiutato perché i bambini si bloccano facilmente quindi la libertà anche di accettare risposte non molto adeguate va benissimo quindi il bambino prova a formulare a formulare una una domanda e la domanda che viene formulata poi chiaramente la deve la deve scrivere la deve scrivere qui la forma la domanda che sarà formulata quale sarà la domanda sarà quella che per esempio potrei fare la somma di tutte le mele o scoprire quando è il totale di tutte le mele quindi in questo modo il bambino riflette e scrive una volta fatta questa fase si passa a scrivere direttamente anche che cosa anche direttamente la l'espressione scritta quindi si passa ai numeri ecco quindi queste sono le fasi scritti numeri si passa poi a scrivere chiaramente la domanda va insegnato al bambino a trovare la risposta nella domanda quindi insegnare guardare rileggere perché la risposta sta già dentro la domanda questo è un altro esempio invece per una scheda che parte già da oggetti disegnati sulla scheda stessa ecco quindi quello si partiva da oggetti reali qui si parte invece da oggetti e sono già disegnati nella scheda quindi l'insegnante può predisporre queste schede oppure scaricate già ne sono pronte tante le fasi sono le stesse si osservano gli oggetti che ci sono il bambino li descrive quindi c'è una tazza di colore rosso due di colore azzurro e tre di colore verde dopodiché si sceglie sempre il simboletto tra quelli indicati il rotondino e si riporta una volta fatto questo quindi fatta osservazione la fase del disegnino della simbolizzazione se vogliamo il bambino passa a scrivere poi i numeri direttamente sotto ogni raggruppamento e quindi abbiamo fatto queste prime tre fasi che si fanno chiaramente in un solo box la scheda infatti tutta la scheda poi contenuta in un solo foglio in una sola scheda poi si chiederà ecco quale domanda possiamo fare qui il bambino sollecitato anche dovrà arrivare a dire quante tazze ci sono in tutto quante sono tutte le tazze eccetera sempre usando una frase completa dovrà imparare a dire quante tazze ci sono in tutto o quante sono in tutte le tazze eccetera fatto questo si passa allo svolgimento dell'operazione il bambino dovrà scegliere vedete dal segno più e il segno meno quindi se serve un'addizione o serve una sottrazione e metterà un x sopra all'operazione questo punto farà la somma che potrà essere fatta a seconda dei numeri della classe anche in colonna accanto e infine si scriverà la risposta le tazze in tutto sono sei quindi le fasi sono queste la scheda che si presenterà è unica e la puoi scaricare da fantasioweb.it sulla page troverai un'immagine di questo tipo cliccando sopra vai su tutti i materiali scaricabili dalle persone che arrivano da youtube se vuoi ecco insomma se ti iscrivi al canale ecco non dispiace anche un modo per testimoniare che le cose che si stanno facendo funzionano e sono adatte a voi grazie e buon lavoro ecco quella che vedi è il modello di scheda vuota che potrai stampare per essere utilizzato c'è anche un secondo modello invece per i problemi di tipo esecutivo questi vanno bene e questa scheda per i bambini di seconda di seconda oppure per i bambini che hanno particolari problemi di nuovo buon lavoro